Una sezione della mostra ha delle fotografie molto serie, molto serie fino anche di denuncia. In particolare è interessante questa del Ku Klux Klan che abbiamo messo in mostra ed è una fotografia che Elliot ha visto stampata per la prima volta proprio al Mudec Photo quando è venuto. Era la prima volta che la selezionava per una mostra, la prima volta che questa fotografia viene pubblicata. È una fotografia di grandi contrasti perché il tema stesso dell'immagine induce una grande violenza e poi invece si vede questo gesto di affetto quasi incomprensibile di una madre per il suo bambino non nato. Ci si chiede come queste persone possano in realtà poi albergare dei sentimenti universali. Ci sono altre fotografie molto serie di vari periodi della carriera e della storia di Elliot e abbiamo voluto dedicare una sezione anche a questa.